Senatrice Paita, al centro della sua attività e del suo impegno politico, il tema delle opere pubbliche e delle infrastrutture ha trovato sempre molto spazio. In questo momento lo stesso tema in Liguria sembra essere motivo di grande preoccupazione. Qual è la sua opinione? Nonostante questo clima e questa, io continuo sempre ad avere un atteggiamento il più possibile garantista perché, ripeto, bisogna essere così anche nei confronti degli avversari politici, questo non significa ovviamente che non ho un giudizio politico su quanto sta accadendo. La cosa che mi preoccupa di più è il fatto che siccome emergono dei fatti che dovranno poi essere accertati, verificati rispetto alle modalità con le quali sono state realizzate delle opere, non nasca una sorta di sentimento contrario alle infrastrutture, perché questo sarebbe gravissimo per la nostra regione e perché sono anni e anni e anni che ci battiamo per vedere realizzato il terzo valico, la gronda, la diga forania di Genova, il tunnel della Val Fontana Buona, l'Aurelia Bissi in ogni provincia, il tunnel supportuale è tanto tanto alto ancora. Ed è chiaro, diciamo così, che non è che perché ci sono stati dei fatti sul tema delle opere, allora questo territorio deve negare l'esigenza di sviluppo e di crescita che invece negli anni precedenti era stato molto messo a fuoco. Cioè noi dobbiamo stabilire il principio e anche ribadire che le opere si possono fare con trasparenza e con legalità, direi che si devono fare in questo caso perché altrimenti Genova e la Liguria continueranno ad essere fortemente penalizzate nel contesto nazionale e noi questo non ce lo possiamo permettere. Quindi mentre da un lato è giusto e sacrosanto guardare con un accento critico al tema appunto della legalità che sta emergendo, dall'altro però bisogna anche avere la maturità, mi faccia dire, le ferietà per non associare il fatto di realizzare delle opere necessariamente a processi di carattere corruttivo presuntitali perché altrimenti sarebbe davvero una rinuncia che non ci possiamo permettere. Tant'è che io l'ho detto a fronte di quella manifestazione alla quale anche lei si riferiva, dei comitati che sono usciti in piazza per dire che non vogliono più niente, io ho già annunciato che promuoverò un'iniziativa invece per realizzare le infrastrutture e farlo con serietà, trasparenza e rigore nei procedimenti. Ecco, quello che viene contestato in linea più dettagliata rispetto alle opere è la modalità con la quale queste opere vengono calate, per così dire, dall'alto. E qui la porterei a Chiavari dove è nato un comitato di cittadini che contesta il posizionamento di un depuratore fronte mare, non negando la necessità di doversi dotare di un impianto di depurazione, ma della scelta di realizzarlo proprio in quell'area che comprometterebbe in maniera definitiva il futuro della città. Una scelta che contrasta in diversi punti con le direttive comunitarie, quindi un atto che dovrebbe passare attraverso il giudizio dell'organo europeo. Un tema che potrebbe fare suo nel percorso che ha scelto di intraprendere candidandosi al Parlamento europeo? Non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Nel caso delle opere che citavo prima e che devono andare avanti, stiamo parlando di opere di cui si è discusso ampiamente per vent'anni, a volte per trenta. Il problema è che non vengono realizzate e che oggi questo clima rischia di creare le condizioni per bloccarle ancora. Il comitato a quale lei si riferisce sta avendo un approccio serio, perché non è che il comitato ha mai detto che è contrario al tema della depurazione, ci mancherebbe altro. Il tema della depurazione è sacrosanto in sé, peraltro proprio l'Europa fa delle infrazioni nel caso in cui un paese non si metta a norma sul ciclo depurativo e c'è un processo ambientale nel ciclo depurativo che deve essere salvaguardato. Il comitato infatti non dice che il depuratore non ci vuole, contesta la collocazione, perché la collocazione è un'area particolarmente pregiata, ma contesta anche quel tema di riutilizzo delle acque che in questo caso verrebbero sversate in mare, le acque cosiddette depurate. Questo e specificatamente questo è un tema che preoccupa molto anche me e non a casa un tema europeo, perché sono proprio le norme europee a vietare quel tipo di procedura ed è una cosa su cui noi dobbiamo ragionare, approfondire. Ecco perché io dico che qualcuno comincia a occuparsene, ma non soltanto sul piano locale, anche sul piano europeo, perché è da lì che passa il giudizio sulla modalità con la quale è stata pensata quell'opera e il giudizio con la quale è stata immaginata quella collocazione dell'opera. Quindi vi faccio dire con grande serietà che in fondo il Comitato ci ha indicato una serie di vie corrette. Uno, non mettersi contro le infrastrutture a prescindere. Due, però cercare delle collocazioni che siano come dire giuste, congrue, ma anche una modalità di realizzazione di queste infrastrutture che sia coerente con le norme europee. Io cercherò anche nell'ambito di questa nuova esperienza che sto portando avanti di occuparmene proprio dal punto di vista della coerenza di questa scelta con l'ambito europeo, senza approcci ideologici, perché fare il depuratore è giusto, però farlo nelle modalità che siano utili a un territorio e che siano rispettose di questo indirizzo europeo che mi sembra sacrosanto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.